Ogni uomo ha dei ricordi che racconterebbe solo agli amici, ha anche cose nella mente che non rivelerebbe neanche agli amici ma solo a se stesso, lei in segreto. Ma ci sono altre cose che un uomo ha paura di rivelare persino a se stesso e ogni uomo per bene ha un certo numero di cose del genere accantonate nella mente.